Il turno dell'altra protagonista di questa gara, Giada Purbassi, autrice del terzo gol. Allora, raccontaci questa rete. No, alla fine per me è stata la rete più importante finora, perché comunque io ci ho creduto, tutta la squadra ci ha creduto di aver recuperato una partita veramente tosta, poi non c'eravamo, il mister ci ha sgridato primo o secondo tempo, però alla fine sì, ce l'abbiamo fatta e siamo contentissime, soprattutto io. Finora un grande avvio di stagione, sia da parte della squadra che da parte tua. Dove vuole arrivare questa squadra e dove vuole arrivare Giada Purbassi? Allora, questa squadra sicuramente punta a salire, a crescere, tutte dobbiamo crescere e si punta ad andare in Serie A. Io sicuramente stare con le compagne, crescere, migliorarsi e andare in Serie A con le altre. Io questa squadra ci tengo e mi sono trovata bene e spero di salire. Grazie.